Un minuto di silenzio per le vittime del terremoto si è aperto così il Consiglio Comunale di Padova che si è svolto lunedì. Subito dopo il Sindaco ha ribadito l'impegno dell'amministrazione per dare sostegno a quelle famiglie che hanno perso tutto e ha rinnovato la disponibilità del territorio all'accoglienza. L'estate 2016 ha segnato un punto di svolta per il territorio di Padova che ha visto lo smantellamento nel Camponomadi di Via Bassette con l'ordinanza che ha riportato ordine e pulizia. In Consiglio Comunale erano presenti molti residenti di quel quartiere che hanno voluto ringraziare personalmente il Sindaco e hanno mostrato anche dei cartelli. In questi giorni nonostante la contentezza per il riordino dell'area sono state espresse alcune preoccupazioni per la sistemazione di una famiglia in un condominio. Ringraziando l'amministrazione per ciò che è stato fatto vorremmo sottolineare che sarebbe opportuno integrare queste persone con dei percorsi civici e sociali in maniera da non disturbare il regolare svolgimento di tutte quante la nostra vita. Il Sindaco ci ha rasserenato riguardo a questa cosa qua e siamo molto contenti ovviamente i zinghari sono andati via anche perché io non sono mica razzista però insomma hanno bisogno di essi integrati. Loro sono abituati a vivere sulle rullotte, nella terra, in mezzo ai campi e quindi insomma bisogna rinserirli e seguirli insomma diciamo. Nel corso del Consiglio Comunale il Sindaco Bitonci si è avvicinato ai cittadini dialogando con loro sulla problematica e si è aperta la via del dialogo. Il primo cittadino ha parlato con loro. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni subito dopo al Consiglio. Ma è risolto definitivamente il problema di via Bassette del campo nomadi, un campo nomadi abusivo di Padova con 120 nomadi all'interno. La maggior parte poi sono stati mandati via. Alcuni con i bambini più piccoli invece si è trovata una soluzione, più che altro perché erano residenti con bambini molto piccoli, però abbiamo cercato ovviamente soluzioni non impattanti, abbiamo chiesto che vadano obbligatoriamente a scuola e sono realtà che possono essere anche recuperate. Però quello che è importante è che abbiamo chiuso per la prima volta a Padova un grande campo abusivo che creava grande danno e disagio a tutta quanta la popolazione. I cittadini hanno voluto venire in Consiglio Comunale per ringraziare anche quelli di alcune abitazioni della zona intorno al campo di via Bassette dove insomma i problemi erano veramente quotidiani e dove oramai da molti anni il quartiere chiedeva una soluzione al problema. A suon di ruspe abbiamo risolto la questione, l'abbiamo fatta però senza, ripeto, dimenticarci di quei bambini piccoli che vanno recuperati perché sono residenti a Padova e dobbiamo insegnarli che si può uscire anche da questa brutta situazione.